Il Partito Democratico di San Benedetto ha scelto il candidato sindaco in vista delle prossime amministrative. Si tratta della pediatra Aurora Bottiglieri, appoggiata anche da NOS e Articolo 1, una candidatura nata due mesi fa. Io praticamente sono stata contattata un paio, due mesi fa, anche qualcosa di più, in quanto mi interessavo di programmi di tipo culturale. Da lì è nata questa candidatura. Un po' alla volta ci siamo trovati d'accordo su tante cose che si possono fare per San Benedetto ed è cresciuta fino a che a quel punto gli ho dato la mia disponibilità e adesso sono la candidata sindaca di questi tre partiti, vogliamo chiamarli così. Per la Bottiglieri a tracciare gli obiettivi da perseguire sul territorio, nel caso di vittoria, sarà direttamente il patto solidale democratico presentato qualche tempo fa. È un patto importante, in fondo condiviso da tutto il centro-sinistra, in cui si parla di partecipazione. C'è un cambio di ruolo da parte dell'amministrazione, in quanto vuole che partecipino i cittadini alle scelte che farà il nuovo governo, il governo locale, l'amministrazione locale, la condivisione delle risorse economiche, la condivisione di come i beni pubblici devono essere utilizzati e difesi e l'inclusione di tutti quelli che hanno bisogno di parlare con noi e che fanno parte anche delle fasce di solito più povere della popolazione. Quindi anche l'inclusione delle categorie a rischio, delle famiglie in genere più bisognose, dell'inclusione degli stranieri, emigrati, di cercare di correggere quello che è la povertà educativa che esistono nei giovani e quindi la correzione di quelle che si chiamano le diseguaglianze. Nei mesi scorsi diverse polemiche hanno riguardato la richiesta di alcuni esponenti politici di svolgere le primarie per la scelta del candidato sindaco, una strada però che la Bottiglieri considera impercorribile a prescindere. Le primarie sappiamo che a San Benedetto l'ultima volta, parliamoci chiaro, hanno comportato la vincita della destra. Noi adesso, la destra, cerchiamo di vincere la nostra volta, quindi le primarie secondo me non si faranno mai e nessuno è d'accordo a farlo, è soltanto l'avvocato Canducci e Verdi e Rinasci Marche.